I numeri sono diminuiti ma gli incidenti stradali restano un costo sociale altissimo per la nostra provincia. Secondo i dati dell'ultima analisi ACI-STAT nel 2021, a Lecco se ne sono verificati 684, con 14 morti e 929 feriti. Numeri in crescita rispetto all'anno precedente, quando il lockdown aveva drasticamente ridotto per mesi le auto circolanti. Se si considera invece un arco di tempo decennale, sulle strade lecchesi si sono ridotti sia il numero di incidenti, sia quello dei decessi. Ma non basta. In soldoni nel 2021 si sono verificati più o meno due incidenti al giorno nel quale si sono ferite almeno tre persone. Ogni mese si registra un decesso sulle strade. Un prezzo dunque ancora troppo alto e anche alla luce di queste considerazioni il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha avviato l'istruttoria per installare nuovi autovelox e per riconsiderare la collocazione di quelli esistenti. Un iter che parte dall'esame dei tratti di strada nei quali è possibile approntare questi dispositivi di controllo della velocità con particolare attenzione alle strade extraurbane, secondarie e urbane di scorrimento. Saranno poi coinvolti in questo processo anche Anas, provincia e comuni che, ancora prima dell'espressione del parere tecnico, potranno rappresentare alla prefettura ogni situazione territoriale meritevole di attenzione e approfondimento. La convocazione dell'osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, da ultimo, consentirà poi la sintesi di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari all'approvazione del decreto della prefettura. I tempi di questo procedimento non saranno però lunghi. Il prefetto, che ha richiamato a raccolta sul tema della prevenzione degli incidenti stradali tutti gli enti e le istituzioni pubbliche coinvolti a vario titolo, confida che già nel prossimo mese di aprile, terminata la fase di acquisizione dati e valutazione tecnica dei manufatti stradali, si potrà adattare il nuovo decreto sulla collocazione degli autovelox sulle strade provinciali interessate.